Uovo di Pasqua artigianale Gangemi, cioccolato bianco e granella di pistacchi, l'ho trovato al deco, dovevo prenderlo l'anno scorso ma ci sono arrivato troppo tardi e non ne ho trovato L'ho pagato 9,90€ e una grammatura di 280 grammi, vediamo cosa ci troviamo Wow, questo si che è pistacchioso dentro, qua c'è la sorpresa, è un portachiavi, una pala di fico se non erro Niente piccio, Gangemi eh, Gangemi, io vi consiglio sempre cose buone e ha pure il certificato di garanzia Ecco come si presenta il cioccolato, assaggiamo il cioccolato, è ciò che vi potete aspettare dal cioccolato bianco con granella di pistacchi Non è per niente dolce, non ha niente a che vedere col Galak, è cioccolato artigianale, io ve lo consiglio sempre, sia per le sorprese che per la qualità Se veniva aromatizzato leggermente al pistacchio forse avrebbe avuto quella nota in più di pistacchio, anche se effettivamente poi c'è il retro gusto dopo che lo mangi Si merita un 8 considerando anche la sorpresa super carinissima, ormai abbiamo avuto la conferma che sono amante del cioccolato al latte Al prossimo video, seguitemi ovunque, ciao!